Buongiorno, sono Marco Livotto e questa è una comunicazione in merito al corso di gestione del colore avanzata previsto per sabato 14 marzo presso Camera Service di Roma. È inutile che stia a ricordarvi quanto sia difficile in questi giorni muoversi sul territorio nazionale. Per me, in particolare che vivo al nord a 500 km e oltre dalla capitale, venire fisicamente a Roma significherebbe attraversare ben due zone rosse. Naturalmente questo sarebbe possibile per impegni di lavoro, ma mi sembra un segno di responsabilità civile in questo momento trovare un altro modo di mantenere la parola data sul corso e cercare di proporlo in forma alternativa. Questa mattina con il personale di Camera Service abbiamo fatto una lunga prova appurando che è perfettamente possibile tenere il corso online e di questo naturalmente io sono dispiaciuto perché avrei davvero voluto essere presente di persona, ma come comprendete tutto questo va un po' al di fuori della nostra giurisdizione e del nostro controllo. Quello che vi posso garantire è questo, che io sarò naturalmente presente di persona per tutto il tempo e che sarà possibile interagire con me facendo domande, chiedendo chiarimenti e facendo commenti direttamente via chat e io sarò in grado di rispondere in tempo pressoché reale. Abbiamo poi pensato di creare un gruppo Facebook chiuso riservato ai soli iscritti in cui sarà poi possibile, naturalmente senza alcun tipo di sovrapprezzo, interagire con me anche dopo il corso in maniera da colmare quella mancanza di contatto fisico che necessariamente si viene a creare. E infine, cosa molto importante, Camera Service ha deciso di lasciare il prezzo promozionale per tutti gli iscritti, proprio per controbilanciare diciamo questo piccolo disagio che viene a crearsi in una situazione di questo genere. Io sono certissimo della vostra comprensione e potrebbe essere anche, lo dico provocatoriamente, l'occasione per riproporre un altro corso live tra qualche mese quando questa difficile situazione sarà finita, ma credo che sia importante in questo momento anche guardare avanti e continuare a fare le cose che dobbiamo fare con i mezzi che possiamo utilizzare. Vi ringrazio tutti e vi aspetto naturalmente sabato 14 online. A presto!